Benvenuti a Radio Puggino NER. Oggi ci addentreremo in una delle storie più intricate e affascinanti del panorama ecclesiastico italiano attuale, una storia che intreccia misticismo, controversie dottrinali e figure carismatiche che sfidano l'autorità della Chiesa. Parliamo di Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano e delle recenti scomuniche di Monsignor Carlo Maria Viganò e Don Alessandro Minutella. Questi personaggi hanno scatenato un dibattito intenso e acceso che tocca temi profondi come la fede, il potere e le divisioni interne alla Chiesa Cattolica. Questa è Radio Puggino NER. Buon ascolto da Radio Puggino NER. Iniziamo con Gisella Cardia, una figura che ha attirato l'attenzione di molti per le sue presunte apparizioni mariane. Il 3 luglio 2024 Gisella è tornata al campo delle rose di Trevignano Romano dove ha accolto un gruppo di circa 70 fedeli. Questo nonostante la diocesi di Civita Castellana avesse dichiarato che le apparizioni della Madonna riportate da Gisella non avessero nulla di soprannaturale e il Vaticano attraverso quella che è l'ex Santa Inquisizione ha confermato ufficialmente il decreto del Vesco Marco Salvi. La determinazione di Gisella Cardia a continuare a proclamare i suoi messaggi divini non è stata scalfita da questa dichiarazione ufficiale. Durante una recente puntata di Pomeriggio 5 News l'avvocata di Gisella ha difeso la sua cliente affermando che il reato di truffa non sussiste sostenendo che Gisella è mossa dalla sua fede sincera. Questa affermazione apre una riflessione sulla complessità del discernere tra fede autentica e possibili illusioni o truffe. L'avvocata ha dichiarato Gisella è mossa dalla sua fede e da quello in cui crede. Il reato di truffa non sussiste. Io non entro in merito a questioni emotive. Non si può parlare di diritto se non si ha la conoscenza. Questa difesa legale si scontra con una serie di denunce e querele che circondano la figura di Gisella Cardia. La controversia attorno a lei non è solo legale ma anche profondamente spirituale e sociale. L'ex portavoce di Gisella Cardia Paola Felli ha raccontato durante il programma che Gisella le chiese aiuto nel suo momento più difficile per recuperare la sua credibilità sui media e la Felli ha aggiunto che le consigliò di spogliarsi dei suoi averi per dimostrare la sua sincerità. La storia di Gisella Cardia non può essere vista isolatamente. Si inserisce in un contesto più ampio di controversie e divisioni all'interno della Chiesa Cattolica che vedono protagonisti figure come Monsignor Carlo Maria Viganò e Don Alessandro Minutella. Per tutto quello di cui abbiamo parlato sinora esistono degli episodi molto approfonditi degli speciali sia per quanto riguarda l'ultima apparizione e sia per quanto riguarda queste ultime dichiarazioni a pomeriggio 5. Poi c'è stata anche Iva Zanicchi che è andata contro Gisella Cardia. Varie episodi nelle ultime ore, negli scorsi giorni in cui abbiamo approfondito tutti questi temi. Ma ora andiamo a vedere perché anche dai messaggi che alcuni seguaci, dai commenti che mi inviano tramite il nostro podcast, molti seguaci non credono che Papa Francesco sia il vero Papa. Insomma hanno delle visioni molto particolari della Chiesa, di questa realtà di cui parliamo. Dunque questa figura di Gisella Cardia sembra almeno da quello che raccontano i suoi seguaci anche nei commenti qui a Radio Puggino NER sembra molto legata questa realtà a Don Alessandro Minutella scomunicato che molti di voi conoscono anche l'ho, anzi l'ho conosciuto proprio grazie ai vostri commenti e poi anche di Viganò, anche a Viganò abbiamo dedicato degli episodi in cui approfondiamo il tema della scomunica, un altro ex cattolico perché scomunicato che va contro Papa Francesco. Dunque sembra esserci questa spaccatura dentro la Chiesa cattolica che attraverso membri diversi, con esperienze diverse, ma forse stessi seguaci stanno creando all'interno del Vaticano. Approfondiamo proprio questo in questo episodio speciale. Monsignor Carlo Maria Viganò non è una figura di secondo piano nella scala gerarchica della Chiesa perché è stato l'ex annunzio apostolico negli Stati Uniti, dunque uno dei maggiori diplomatici del Vaticano è stato recentemente scomunicato late sentenze dalla Santa Sede per il delitto riservato di scisma dunque è stato proprio annunciato prima lo scisma qualche giorno fa e poi la scomunica arrivata ieri ne abbiamo parlato in flitta perché Viganò è stato riconosciuto colpevole di non riconoscere Papa Francesco come pontefice regnante e di respingere il Concilio Vaticano II. Viganò è una figura controversa, nota per le sue critiche feroci a Papa Francesco e per aver guidato un gruppo di persone ostili al Papa e alla Chiesa considerata da loro falsa ed eretica. Ma andate ad ascoltare il nostro approfondimento di ieri su Viganò per avere ulteriori dettagli. Un dettaglio particolarmente interessante emerge da un'intercettazione telefonica però del 6 novembre 2021 in cui Gisella Cardia parla con il suo ex padre spirituale a quanto pare da quanto dicono che si tratta di padre Giulio Scozzaro anche a lui episodi dedicati perché insomma ora è agli arresti domiciliari per maltrattamenti addirittura e ne abbiamo parlato a lungo anche di lui e di questo legame tra Scozzaro e Gisella Cardia ma in questa conversazione, ripeto, del 6 novembre 2021 Gisella afferma So che Monsignor Viganò mi segue È nascosto in un posto segreto Questa rivelazione solleva domande importanti su cosa possa accomunare un arcivesco di alto rango con una sedicente veggente Forse il loro comune nemico è proprio Papa Francesco Il legame tra Viganò e Gisella Cardia si inserisce in un panorama di dissenso più ampio che coinvolge anche Don Alessandro Minutella che abbiamo citato prima Minutella è stato scomunicato invece nel 2018 per aver attaccato apertamente Papa Francesco e continua ancora oggi a guidare un gruppo di sacerdoti dissidenti che non riconoscono l'autorità del pontefice Durante una trasmissione sul radio Domina Nostra Minutella ha discusso con Don Ramon Guidetti un altro sacerdote scomunicato che ha definito Papa Francesco un usurpatore e un gesuita massone Minutella e i suoi seguaci sostengono che la Chiesa stia vivendo un periodo di confusione e smarrimento dei suoi dogmi accusando Papa Francesco di abbandonare la tradizione bimillenaria della Chiesa di Roma Queste affermazioni riflettono una visione radicale e polemica della situazione attuale della Chiesa Cattolica Minutella ha dichiarato Noi esistiamo per difendere il deposito della fede usurpata e impedita Questa visione trova eco in una parte della popolazione cattolica che si sente disorientata dalle riforme e dalle aperture del Papa verso alcuni temi Eppure dobbiamo ricordare che in realtà queste persone che si dichiarano così tradizionaliste e sono così arcaiche, naturalmente anacronistiche davvero sono nel medioevo ancora di più rispetto alla società attuale che è anche abbastanza medievale di per sé queste figure così legate a un mondo arcaico e anacronistico, ripeto sono ancora più indietro rispetto a Papa Francesco che nelle ultime dichiarazioni che hanno raccontato alcuni sacerdoti, vescovi i raduni naturalmente non pubblici ma raduni privati tra vescovi e sacerdoti e lui ha anche chiesto scusa per cui non è che sono cose inventate sono cose per cui il Papa ha chiesto scusa per cui sono cose reali abbiamo notato linguaggio molto ostile dal Papa stesso verso i casi gay o omosessuali LGBTQ+, insomma ha avuto delle dichiarazioni chiaramente omofobe e anche in altri casi abbiamo visto sessiste ci sono degli episodi dedicati a questi episodi a queste dichiarazioni che sono reali perché il Papa poi ha chiesto scusa, non le ha smentite dunque delle dichiarazioni omofobe e sessiste parte di Papa Francesco per cui non mi venite a dire che è così moderno è così aperto, è così contemporaneo insomma figuratevi come sono questi altri che si ritengono molto più tradizionalisti dunque la Chiesa ha seri problemi non perché ci sono questi tradizionalisti Viganò, Minutella insomma che possiamo contarli sulla punta davvero in una mano o in due mani sono pochissime queste persone ostile a Papa Francesco e a questo presunto modernismo che c'è nella Chiesa ma che non è affatto modernismo noi assistiamo ogni giorno attraverso le dichiarazioni del Papa ad una Chiesa fin troppo retrograda fin troppo tradizionalista fin troppo legata ancora al sessismo all'omofobia e ad altri temi tipo l'aborto eccetera oppure all'eutanasia in cui sono davvero lontani anni luce non solo secoli o millenni ma anni luce rispetto al momento al momento attuale al momento in cui la società ha raggiunto una maturità tale che non fa altro la Chiesa stessa quella ufficiale che per alcuni sembra così modernista invece non fa altro che portare indietro sempre più indietro la società in un contesto di idee che le fanno davvero male perché purtroppo poi soprattutto in Italia vista la situazione non possiamo contare né su un governo né su un livello culturale così elevato dunque le dinamiche interne alla Chiesa Cattolica sono emblematiche di un periodo di grande cambiamento e turbolenza da un lato ci sono coloro che sostengono la necessità di modernizzare la Chiesa renderla più inclusiva e aperta al dialogo con il mondo contemporaneo e tra questi non c'è il Papa perché altrimenti non avrebbe fatto determinate dichiarazioni e ripetute nel corso soprattutto dell'ultimo periodo dall'altro ci sono quelli che vedono in questi cambiamenti una minaccia all'identità alla purezza della fede cattolica e questo conflitto riflette tensioni più ampie che attraversano molte istituzioni religiose e sociali nel mondo di oggi per capire meglio il contesto di queste scomuniche e delle controversie che le circondano è utile approfondire le motivazioni che hanno portato alla scomunica di Viganò e Minutella Monsignor Viganò è stato uno dei critici più vocali di Papa Francesco accusandolo di eresia e di tradimento della vera fede cattolica la sua opposizione si è intensificata nel corso degli anni culminando nella sua scomunica questa misura drastica riflette la gravità delle accuse e delle posizioni sostenute da Viganò Alessandro Minutella invece dal canto suo ha costruito una piattaforma mediatica attraverso la quale diffonde le sue critiche a Papa Francesco e alle riforme della Chiesa la sua radio Radio Domina Nostra oddio questo mi fa un po' mi dà un po' fastidio perché mi sento quasi associato a questa figura e non voglio esserlo assolutamente perché anche noi abbiamo la nostra radio non la Domina Nostra ma la nostra radio vabbè a parte questo diciamo attraverso questa sua radio Minutella è diventato un punto di riferimento per coloro che condividono le sue idee Minutella sostiene che Papa Francesco stia conducendo la Chiesa verso il declino accusandolo di cedere ai poteri forti e di tradire il Vangelo queste posizioni estreme hanno portato alla sua scomunica ma hanno anche rafforzato il suo seguito tra i fedeli disillusi forse un po' quello che è successo a Gisella Cardia che quei pochi che le sono rimasti intorno magari hanno rafforzato invece attraverso tutte le critiche il decreto non la scomunica nel suo caso per ora ma solo una conferma della non sopranaturalità di quanto afferma naturalmente parliamo di Gisella Cardia le storie di Gisella Cardia Carlo Maria Viganò e Alessandro Minutella sono emblematiche di una crisi più ampia che attraversa la Chiesa Cattolica questa crisi non riguarda solo la dottrina ma anche la fiducia e l'unità dei fedeli le scomuniche di Viganò e Minutella insieme alle controversie attorno a Gisella Cardia rappresenta un momento di riflessione profonda su cosa significhi essere fedeli in un'epoca di cambiamenti rapidi e sfide globali in conclusione il caso di Gisella Cardia insieme alle scomuniche di Carlo Maria Viganò e ad Alessandro Minutella rappresenta un punto di svolta per la Chiesa Cattolica è il momento di riflessione profonda su cosa significhi essere fedeli in un'epoca di cambiamenti rapidi e sfide globali come comunità dei credenti dovrete domandarvi come mantenere l'unità anche uno spirito critico e aperto cercando sempre di discernere la verità dalle menzogne e dalle false apparizioni manifestazioni dai falsi personaggi carismatici come possono essere Gisella Cardia grazie per averci seguito in questo approfondimento su Radio Puggino NER continuate a sintonizzarvi per ulteriori discussioni su temi di attualità anche di fede come in questo caso e di cultura la verità non è sempre evidente e spesso richiede un'analisi attenta e ponderata grazie per averci seguito al prossimo episodio di Radio Puggino NER avete ascoltato Radio Puggino NER Radio Puggino NER